Un ragazzo che è un volontario è assaltato fuori perché bene o male nessuno pensava che aveva un arresto, magari pensava che aveva una crisi epiletica, lui di aver iniziato a farmi il massaggio dopo è arrivato tempestivamente il defibrillatore ma quello è l'importante, usare un defibrillatore perché adesso hanno fatto una statistica a vedere da quando lo stanno mettendo sempre di più nei palazzetti, sempre di più nelle nostre città e nei nostri paesi ci sono sempre meno morti perché quando uno impara, che poi non è che deve andare a scuola perché c'è tutte le soluzioni, il defibrillatore impara a mettere le piastre e fa tutto automaticamente. Questi defibrillatori fanno davvero tutto, io ne ho provato poi successivamente perché abbiamo fatto alcune iniziative legate ai defibrillatori, ti dice proprio quello che devi fare e la voce all'inizio dice non entrare nel pane.